ce l'ha, l'abbiamo buttato lì questa cosa no? l'altra volta? la settimana scorsa abbiamo iniziato ad ipotizzare Ronaldo sembrava un po' un sogno ma questa settimana sembra che potrebbe diventare realtà infatti ho saputo che il 29 giugno è stata confermata all'Olimpico una grande presentazione e Totti consegnerà... tra due giorni? il 29 giugno per San Pietro e Paolo? sì per San Pietro e Paolo mancano due giorni e Roma già... questo del patrono di Roma? Roma si sta caricando perché sarebbe veramente un grande colpo allora aspetta un attimo aspetto a dirlo è il 29 giugno e... tra due giorni ci siamo allora vogliamo andare a Bratislava? e vedere... confermato, prenotato, lo Stato Unipico per una grandissima proclamazione di un grande giocatore internazionale e vi dico solo che Totti consegnerà la maglia numero 10 a Pellegrini e Pellegrini consegnerà la maglia numero 7 che sembra proprio... a Bratislava a Bratislava a Bratislava a Bratislava a Bratislava a Bratislava